Tu, tu che dici che non volevi scrivere una regola? Quella signora ti aveva chiamato a essere l'ultimo pazzo della terra. Tu lo sai che doveva scriverla, Chiara? Che la prima regola non fu approvata. Non, è sicuro. E chi sta? Chi sta chi l'ha scrivuta per te? Un violino in persona? Chiara. Sto qua e ora parliamo, Elia. Ma nella regola non si parla più della vota di povertà. Non si parla di ribellarsi contro i potenti. Niente rimane del tuo proposito primiero. Nello nostro proposito. Lo furorio tu è perché schissi dalle tue sorelle. Che dovevamo via separati. Via separati? Avevamo cominciato insieme. Altrimenti non poteva fa. Potiva tu invece. Ma avevamo la regola. E perché sto campando? Ma pure tu devi scrivere una regola per le tue sorelle. Si va che tutto questo che abbiamo fatto non svanisce e diventa niente. Scrivi una regola che lo santo padre ti approva. Perché mi dici cosa fa? Lo sarei un anno dopo i dialli frati. Sei tu che lo dicisti o no? Fa come vuole, Chiara. E non veni più a San Damiano, Franciè. Fa come hai voluto scrivere nella regola tua. Stateve longe dalle femmine. Tutti. Non siete più le benvenuti alle case nostre.